Tu Masonesi, ormai sei il fiondino, perché sei partito velocissimo, all shot nella prima, nella seconda appena, te la sei battuta con Enzo che ti ha pregato, però una gran bella gara. Sì, sono state due manche veramente belle, in entrambe sono riuscito a partire la prima in pole position, mentre la seconda, secondo, però dopo due o tre curve sono riuscito a passare in prima posizione, è stata una bella battaglia con i miei avversari, soprattutto con Ciceri, e a causa di poco allenamento c'è tutto dopo gli ultimi tre giri. Sì, è stata la mia prima gara di pole cross, tra cui il primo podio stagionale del campionato italiano, quindi sono molto felice per questo risultato. Siccome il team manager ci sente, prossimo anno fettucciato e cross? Prossimo anno fettucciato e cross.